A inizio mandato avevamo promesso che avremmo portato il Carnevale di Fano nel mondo, ebbè promessa mantenuta l'anno scorso Cuba, quest'anno Veracruz. Veracruz si trova in Messico, ha il Carnevale più antico d'oltreoceano e ha contattato Daniele Carboni, quindi il Carnevale di Fano per una collaborazione, loro ci dedicheranno un carro, un carro appunto dedicato al Carnevale di Fano e alla città di Fano. Ci hanno mandato il bozzetto, noi ovviamente abbiamo mandato degli input loro per poter realizzare questo carro dedicato a Fano e questo ci riempie ovviamente di orgoglio perché comunque si comincia a parlare del Carnevale di Fano tanto di più in Italia e adesso anche nel mondo, possiamo dirlo. Grazie a tutti.